Gentili telespettatori buona giornata vediamo la fiducia nei leader secondo la casa di sondaggi EMG. Abbiamo in prima posizione ancora Mario Draghi a quota 55, Giorgia Meloni quota 48%, Luca Zaia 42%, Giuseppe Conte al 38%, Stefano Bonaccini al 33%, Silvio Berlusconi al 29%, Matteo Salvini anche lui al 29%, Carlo Calenda al 25%, Enrico Letta al 22%, Matteo Renzi al 18%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra pochi minuti per un altro video.